Bocche cucite e deferimenti sempre più vicini, probabilmente nel giro di dieci giorni. È una giornata fondamentale nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta Combin della gara Savona-Terra. O alle mie spalle vedete l'ingresso degli uffici della Procura Federale qui a Roma in Via Campagna. È una giornata importante perché oggi sono stati auditi quattro giocatori del Savona. Solo ieri sera erano state rese pubbliche queste convocazioni. Quattro giocatori, Marco Cabeccia, Alessandro Marchetti, Jacopo Galimberti e Fabio Eguelfi. Ascoltato anche l'ex consulente esterno del Savona, nonché ex assistente arbitrale Enrico Cenicola. I nomi di Marco Cabeccia e di Alessandro Marchetti erano già noti all'opinione pubblica perché erano nomi comparsi nella informativa di reato in occasione delle trascrizioni, delle intercettazioni come due tesserati del Savona che sarebbero stati coinvolti dal calciatore Matteini a sua volta investito di questo incarico dall'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola. I nomi nuovi sono quelli di Jacopo Galimberti e di Fabio Eguelfi, due difensori del Savona che parteciparono, furono titolari in occasione della partita tra Savona e Teramo. Sono dunque i nomi nuovi comparsi per questa giornata. C'è da dire che il primo ad arrivare è stato Fabio Eguelfi, poco dopo è arrivato anche Alessandro Marchetti. Gli ultimi a giungere sono stati in ordine di tempo Jacopo Galimberti e Marco Cabeccia. Le audizioni sono durate circa un'ora e mezza. Mediamente l'ultima uscire è stato Jacopo Galimberti. Abbiamo cercato di raccogliere delle impressioni, ma come potremmo constatare, bocche sostanzialmente cucite, poca voglia di parlare da parte dei rispettivi avvocati. Qualcosa in più abbiamo capito proprio dall'avvocato di Jacopo Galimberti. Possono partire le immagini delle uscite dei quattro giocatori del Savona. Siamo una battuta. La posizione di Cabeccia... Non usciate le dichiarazioni? No. Come è andata? Come è andata? Cabeccia non parla? No, niente, niente. Su, Matteini. Niente? Niente. Come è andata sulla posizione di Eguelfi? Grazie, tutto bene, ma non rilasciamo dichiarazioni ulteriori. Come è uscito il nome del suo assistito che non era nelle intercettazioni? Grazie. L'avvocato ci concede un minuto per... Ha chiarito la posizione Galimberti? Buonissimi, certo. Ma il suo nome non risulta nelle intercettazioni, come mai? No, peraltro non avevamo mica nulla da dichiarare, è stato abbastanza liscio tutto. Grazie mille. Grazie. Ma il suo nome come è uscito fuori, visto che non era nelle intercettazioni? È uscito fuori perché quando ci sono le indagini la Procura ha tutto il diritto di interrogare chi ritiene opportuno interrogare. Grazie, arrivederci. Arbitrariamente? No, arbitrariamente mai. Arrivederci. Arbitrariamente mai? Arbitrariamente. C'è un senso, dice c'è una cosa. Restano ancora delle incertezze sul fronte delle ulteriori audizioni. Non è ancora certo che il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, e il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe possano essere ascoltati dagli uomini della Procura federale guidati da Stefano Palazzi. Sono decisioni che saranno prese nelle prossime ore. Domani gli uomini della Procura federale si rivedranno, faranno anche il punto della situazione in base all'esito delle audizioni di oggi e magari si deciderà se è il caso di fare ulteriori audizioni nel merito della gara Savona-Teramo. Però entro fine luglio, ma probabilmente entro dieci giorni, arriveranno i deferimenti a carico delle persone coinvolte nella presunta combin della gara Savona-Teramo. Mentre stiamo parlando è ancora all'interno Enrico Cenicola, assistito dall'avvocato Paolo Gallinelli, che è anche lo stesso avvocato che difende l'altro ex consulente esterno del Savona, Marco Barghigiani.